Ah ma non ci serve allora neanche qualcosa Si ci serve perchè dobbiamo trasmettere questo no? E' vero Ci dice anche da quanto siamo in live ok A posto così almeno oggi possiamo capire bene le cose ragazzi Siamo in live Finalmente Dopo tanto tempo sto scherzando Da questo pomeriggio E' iniziata la nostra nuova live Nostra poi di nostro papà Solo che andiamo noi Perchè noi siamo i pro della situation ragazzi Perchè noi siamo pro Ragazzi se oggi Riusciamo ad andare bene la live Senza laggare Vi giuro Che vi alzo la qualità Perchè così si vede molto molto meglio Eh però minchi Poi è molto contento di iscritti Cioè? Prova a prendere la tele Eh perchè sto qua E' qui Vedi La figa, la figa, la figa, la figa Aspettate ragazzi che C'è qualcosa di pesante da metterci indietro Il mio caso Voi dovete vedere la nostra postazione E anche per immaginate quanto faccio schifo Eh ragazzi non fa neanche tanto schifo la nostra postazione Porca trotta Futone Volteggiamo Viva i bug di Fortnite Ok ragazzi dovremo Eh ne abbiamo un altro Ecco porca trotta No da te Non sospettavo Che facessi così Eh Roma Andiamo subito a parco Allora Uno, due, tre, quattro, cinque, cinque Sette, otto, nove, dieci Figa se ne sono le persone Oh figa figa Ok ragazzi trotta Il modo Per migliare la postazione Guardiamo su No cacchio Do Spero Spero Vai un po' più là per favore Di pochissimi Aspetta non posso Ok Siamo a posto Dovremmo essere a posto così Ah ciao Ah Gorano Siamo già in quattro Papà c'è Che ci stava un attimo aiutando Abbiamo fatto una postazione da urlo Qua Qua Webcam con tastiera E ipad Qua microfono Qua cose L'ipc Adesso mettiamo Aspetta un attimo l'xbox Che dobbiamo riprodurre E E siamo a posto Quindi magari domani possiamo anche fare così Qua computer e tastiera Ipad Microfono Qua E qua Il mouse Il mouse Fai foto Aspetti che gliela faccio subito la foto Mi sa No Ti copre la testa di Michael La testa di Michael E Michael appunto Stai fermo che Ti ho detto che la copri Devo mandarle la postazione che ho fatto A papà Ma come è il tuo padre? Ehi live con noi Ehi Ho Scimpru Scimpru Meglio Eh però Non in via Aspetta Che bello Eh ci stava Facendo Ci stava dicendo Se andava bene le cose Ehm Come andava Ehm 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 Dov'è papà? Dov'è papà? Giriamo Ok Vai un attimo Che ti ho mandato la foto Di come è la postazione Oggi Tami è bellissimo Ok A posto Sì No Qua Microfono Qua Qua Questo Attenzione Michael A chi l'ha visto Chi l'ha visto Chi ama allora Quanto costa Cosa? Tu vuole cuffie? No Non ci sento niente Alza un po' il volume Allora No Alza un po' il volume Sì 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 Ah io ho fatto Io lo vedo Quanto l'hai messo? Vabbè Quanti siamo? Tre Ragazzi dai Dobbiamo salire Salire subito Eravamo in Quattro Quindi saliamo Ok A posto Vabbè Siamo in live da poco Quindi Circa cinque minuti Sì Per cinque minuti Che siamo in live O di meno anche Allora io vado a parco Perché è l'unico posto vicino Non sono durato tanto Perché Mi ha preso da dietro Perché? Mi ha preso da dietro Poi mi ha disconcentrato Stai facendo lo scarso Vero? Ecco E poi ti lamenti Mi sto impegnando No come mi impegno Io faccio una bella vittoria reale Sì sì Come ho sempre detto Come stai sfruttando? Puoi fare a volte? Sì Ok Che c'è chi? Ciao cara Come è cara? Non c'è il terzo Ciao giù Venga la camera Via Chiunque voglia Abbia Xbox One È ben accetto A giocare con noi Il nome qua sotto Dovrò anche cambiarlo Che stiamo Abbiamo formato un clan Con questo tizio qua E con un altro Che a me Dovrebbe Arribarmi in Xbox Spero Di questo possibile E con un altro nostro amico Di nome Leonardo Che salutiamo Naturalmente Sembra piccolino Più di quanto possano spaccare gli altri Spacca più i culi di molte persone che conosciamo Sì sì Oggi in questa live vi insegneremo come essere scarsi Quindi Un bel tutorial Guarda Che cosa? Devo sparare anch'io Pezza Villebac Ti è preceduto Di un po' Non mi può precedere ragazzi Non può Devo impegnare Cinque Cinque One Two Three Cinque Cinque Buone buone ragazzi Saliamo ancora di più Oggi Oggi Minimo 20 Vi insegneremo come essere scarsi Quindi Eh un pochino ragazzi Un pochino scarsi Inizio scarso E poi P Non penso Di notte Non è mai successo Sì una volta È un pochino Che è successo Il mio pochino di fila Appunto Tra l'altro È più ordinato È più ordinato Servirebbero delle sedie Giusto Andiamo Andiamo a corso Scrivete poi Dove dobbiamo buttarci Corso 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 Dai ragazzi Di più Non tre Dai Corso Sì Corso Corso Voglio corso Io Dai ragazzi Più di tre Più Che facciamo vittoria reale oggi Lui la fa Io guardo Sto scherzando Facciamo delle belle kill azioni oggi Facciamo squadra amica contro squadra nemica E poi moriamo noi Ecco Viva la bella prospettiva di vita Beh E poi moriamo noi Più nostra La mia prospettiva è come andare in mare senza acqua Come nuotare senza l'acqua Una bella prospettiva Alla fine Che non spacca Spacchiamo noi ragazzi Tranquilli Siamo noi qua che spacchiamo Ma hai paura E il pompa c'è Cacchio voi Brutto stupido Le bestemmie sono tante E non si dice più queste cose Perché siamo demone Noi facciamo pubblicità Ai polaretti Volevo farla rima con polaretti Le bestemmie non si dicono Perché siamo bravi bambini Le bestemmie sono tante Nel polaretti Dobbiamo essere minimo 500 Adesso No scherzo Dai oggi minimo 15 15 I live Quindi Spamate la live a tutti A tutti A tutti A almeno 10 E' il picco di 10 E' il picco di 10 minimo O anche di 60 Basta che spammate Così Michael vincera Ecco Intanto sentite Le parole che dice Chantal Che le sta sul culo Non si sa chi Ma le sta sul culo No A me sta sul culo Chi c'è un palco A mia sorella A me mi sta sul culo Mi chiamo Vai a pushare Fai le belle kill Eccolo Eccolo Vai a pushare Pusciano a te Come sa storia Dai se muore E' un scorso Era scorso Era un nabo Ma perché non li trovi No no Il pozzo è grande La pozzo è grande Michael Io Ti svegli Di notte le fa male giocare Sì Buono Giante Eccolo Ah Mi che guardo Quanti sono Lascieli pusharsi Pusharsi Stanno pushando Cazzo Io ho handicappato Non tu manchi Chi ha il nabo Qua sto Anche E' un po' Quello Non ti ha tolto Nessun Non ti ha fatto niente Tranquillo Michael Calvati Stai calminino Vedi la roba E' tranquillo Dai Allora E' tranquillo Quello Non coloco Togliamo Ok si è a posto Dai Dai Perché di notte non sappiamo giocare Dai ragazzi Minimo perché questa kill Ne voglio sei Che poi A corso E' difficile E' sempre difficile Sopravvivere Io Per pochi materiali Eccolo Eccolo E' lì 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 Ne hai già 185 Le peccate Qua c'è un altro lì sotto Ce ne sono due Porca Podesha Indiebravino Guardo con il fucile da caccia vabbè lasciale no 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 lascialo tanto va a pushare l'altro quel tipo sicuro un bacco picchie guò bro 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 metti la trappola la trappola trappole lo faccio cadere dentro la trappola no 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 lo scarto ecco proteggiti copriti non lo scopo ecco io avevo un'altra idea per ucciderlo però c'è da perdere vita farlo andare lì sopra metterci le trappole ai lati tu mi faci cadere ma il bastardo il bastardo muoce tranquillo che muoce costruccio scuola di nessuno ecco quel negro bastardo no L'occhio è stronzo questi giorni Però stai attento che hai pochi materiali Io non so neanche dov'è Sai che non ho capito nulla dov'è Anche io Mi giuro dopo quella kg l'ho perso di vista completamente Meglio? No, non era meglio perchè magari ti puscia da dietro ed è peggio Eccolo Ecco allora Non parlare presto Distruggi quest'albero distruggilo Bella bella anche questa bella 5 spettatori Molto 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 bene Bella kill Bella raga bella Veramente bella questa Mi è piaciuto Aveva un po' di roba Le bande Di no Di no Di no Di no Per forza Di no Di no Di no Di no Di no Di no Non lo so Non lo so Non parlare presto Non parlare presto Non parlare troppo presto No 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 Di 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 no ma poi non sai neanche dove va guarda, io so come facciamo fare da dove vedere in che... qual è il backup ecco no non penso di tutto ma non è di tu quel tipo ma in cazzo sta? è la nabo era dopo tre anni cazzo che mi conta dopo tre anni l'hai capito quattro spettatori ragazzi bella 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 era di là è qua nel senso di qua è la nabo però non per dire che sei scarso tu però era nabo veramente prenditi il lanciaraglio è qua ecco porca puttana se lo beccavo vince l'ha impalinato eh porca puttana se ti beccavo è da dove? è da dietro come cazzo ho fatto? bastardo? come hai fatto non vedo? bella partita ho fatta bella raga giorno di paga quattro spettatori live bella 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 l'ho fatta quindi posso anche concludere come se fosse stata una vittoria quale sarà la mia vittoria il giorno bella raga bella raga bella raga lo prendi in bocca e lo fa sparire tipo maga bella raga tutto si c'è quel potere no io ho il potere di lasciare con me salve a tutti ragazzi siamo troppo vicini no signori signori siamo in due bene che sono in due no in due no no non mi segno mai come faccio a correre oh perchè non corre giuro quella fa premendo lo corre no Tony ma siamo da boschietto no puoi subito luoglu e non flamingo le polore l'appi no far ne lo non è vero ma da pin 1 uilui 3 3 3 Ora minuti mi ha tuoi che vuole vabbè va di po' 5 piccoli ok 4 più ma ok quindi posso pusciare a tutti qualcuno qua si puscerà naturalmente spero per loro ma che stai giusto ogni volta sempre se prima non ti ammazzano qua mamma stranamente non penso che mi amassino più qui è il miglior componente scherzo ciao 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 cp il nuovo materiale la stoffa deeeeee spaa non chiamano mai qualsino qua la safe o che è cura ecco un po' di quello è forte non è tanto male è forte servirà bene delle cose no più che altro qua c'è lui dice un tizio non c'è un tizio usciare è andato dentro usciare non è questo usciare è stato un tizio come si prende la città da dietro anche e minchia ero circondato ciao scorpione ciao scorpione bella bella ecco il nostro scorpione non riesco giuro che polle non riesci si ne ho ucciso una solo che no non l'avevo medici tu qua scala e piano lo buttavi giù facevi così eh ma mi aveva proprio ammazzato lo stesso perchè ce l'avevo dietro anche eh eh ma fai anche qua eh si viva un due giudita ninja ne ha ammazzato quattro con la revolver ne ha ammazzato due con la revolver e con una giudita questa 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 attenti che cosa ha scritto come procede procede bene siamo in sei in sei spettatori direi che procede bene agronomics va bene dai meglio che youtube ah e risponde lui proprio e noi siamo i protagonisti eh siamo noi i protagonisti di questa live rispondiamo solo noi siamo sei eravamo sei spettatori cinque e e andiamo appunto non puoi rispondere tu eh e noi possiamo siamo i protagonisti puoi provare a a venire qui certo a fare la live si si tranquillo puoi fare ciò 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 che vuoi no male dè più quello non è neanche un pompa vabbè attaccali quello è quello che serviva a me prima ah 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 bagascio eh lì dentro c'è qualcosa magari no non mi trovi detto va bene che cosa devo dire di prima no e beviti il coso però allo shield e vai a pusharlo oh si ah ah kamadoska che guarda che guarda l'ugodine a gusto e ah beh vai il tre colpi ma io ma come faccio senza armi eh ragazzi sono anche così ninja siamo scarsi non è vero cinque spettatori fissi buono 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 buonissimo armi non posso fare niente con non importa che non è un armi non mi interessa la mia quella cosa lì quella cosa lì quella panda di merda no è una poca ecco adesso dopo mi danno l'anatro questo poi me lo metto è la come balla bene io voglio però la mia donna di successo io voglio la mia donna di successo però eh che cavolo cinque spettatori bella così bella 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 oh puh che schifo che sono le mie cuffie ah io non sono stanco devo fare una vittoria reale di notte tra le eh è mesi che lo dici è mesi che non gioco mai eh boh magari quando papà ha la macchina sto due settimane qua riesco in due settimane a partire anche una bella vittoria anche di più non è che in una settimana da che non giocavo una settimana vengo qua devo prima riabituarmi e poi non è che il giorno dopo che si chiusi una settimana appunto sono una settimana giusto neanche sei abituato ancora? si però non è che ci vuole anche fortuna a fare vittoria trovi sempre gente anche più forte magari in quel momento ho un un pizzico più veloce di te la connessione e ti fotte cosa ne so perchè eh perchè mi lo bello perchè mi spori in tempo che lo in non è per culo in culo troppo no 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 ma la che c'è gente nello c no 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 forse come me ammazzano mentre sono in aria per cui no no sono un bestemmia ehm mi piace un'arma bella ok ok c'è la spazio no pistola blu porco d stai godando la roma tutta vai percorso sto pensando è l'unica cosa che posso fare io mi sta più a percorso vado 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 ne faccio cinquecento col cecchino pop po tutto po pendicino vado arti tis p l'acqua si chiude la festa quello che usciamo il cerco usciate quello cerco non compro senso ma capito che noi non per questo se li dobbiamo assaggi ahi no non so dove sono fa tipo il caraco sotto va dietro ma Massaro vai attività 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 gang una gangbang di casi proprio m4 davanti davanti scale 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 vampo fucile vampo 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 ma che culetto è ansia da che non avevo un cazzo di arma no vabbè ragazze quanti siamo in live 5 spettatori buon Tanto Fai come ha coltivo Cosa? Che ha fatto a me Il codaio Sparandolo Sparandolo con il coltivo Qual è il caso? Qual è il caso? Qual è il vanta? Dove Chissà, è quello che è il caso Ancora, vai! Ancora, vai! Devo spaccare a 10 colpi Caracchio! Peccato 7 spettatori Dai, buono, buono Non mi aspetta male Ma proprio io davvero Ho fatto 3 belle kill Perché comunque sia Non sono stato schifoso Però Preferivo anche fare la quarta Dai, però con 7 spettatori Dopo si può fare qualcos'altro Per prendersi Me lo aveva rubato lui C'era lui In quel momento il pompa Lo stavo cercando apposta per quello Perché sapevo secondo me Ma spostati da dietro Però che ti vedi Ti vedi? Ti vedi? Ti vedi? Dai, bella ragazzi 7, 7 Buono, buono Dai, 5 Vabbè, non importa No Perché? 8 No, 5, 5 Dai, va bene, non importa Abbiamo avuto Però adesso penso un picco di 7 È giusto Va bene Va bene Va bene Va bene Giusto Magari Poi quando Stiamo guardando tipo 9 È quello che stavo pensando Che magari avessimo di più Tipo ieri, no? Sì, sì L'altro qui L'altro ieri Sì, sì L'altro ieri Non ce ne siamo accorti Eppure Andando a vedere Le statistiche della live Eravamo arrivati a 9 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 Magari Ragazzi 4, 4 Peccato, peccato Dai, ce la possiamo fare Dobbiamo risalire Non altro Vogliono altre Anche qua Ho fatto un caffolo Veramente Già una kill, ragazzi, fatta È stata facilissima Però, ragazzi Prima kill Vorremmo anche, però Gli giusti spettatori A guardarci, eh È bello Eh, ragazzi Fia, fia Non solo La gente che guarda La gente che gioca E gli altri che Non fanno niente, eh La gente che ci guarda Si, dov'essere per forza Se no Cosa stiamo qua a fare? Giocare per niente Eh Ok, beviti tutto E Sei a posto anche, dai A parte per le ormi Sono ormi Vabbè, quella lì Sì Sì, buona, buona Ho armi Sì, buona, buona È buona come armi Guardi Ti servirebbe un pompo Anche se quella lì è shotta Anche se quella lì è shotta È viola anche poi Lo so che è viola anche la mattina È bella Sì, 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 è bella Carirei un po' Un po' Sì, sì Sì, è bella Sì, è bella Cosa? Non ce ne so Ok Guarda come c'è il corpo Eccolo il mio amore Wow Che bello che sei, eh Lo sciantane mentre che passa dietro Non si vede Dove fa niente di tutto? No, se ce l'avevo io prima Potevo prenderlo io prima Poi Peccato Solo che avevo quel tipo che mi stava sparando subito Ah, sì È piuttosto attualmente Prima ho fatto male a curarmi subito A non prendere Tutto il lutto che c'era Beh Sì Con scorre il pompo è sicuro No No, non c'è Ma non c'è Ma non c'è Vabbè Poi le capisci dopo Te lo ricordi Non pensi in quel momento Pensi a uccidere Dai ragazzi siamo solo tre Arrivamo in sette Capisci dopo Vabbè Perché dopo ci rifletti Perché non ho ammazzato quello e non ce l'ho fatta Beh perché sei stato un coglione e non fai Siamo soli in tre Dai ragazzi Vogliono il pusher questi Mi hanno lottato Mmm Sono munizioni Mie che poi come fucile primario il cecchino Neanche La mio La mitraglietta Sai gomma No il cieco proprio No non è stato lottato qua Te prendi però Eccolo 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 Hai detto il proprio Mi chiedi già E quelle cose questo Kamadaoska Distruggi l'albero provoci Ma se no pusherò Fai tutto intorno Fai tutto intorno Te caspita Chi sta sparando sempre quello Kamadaoska Pusherò da di la Sta facendo la scale Che cacchio ho? Ho fatto Che bel cacchio in testa mi sa E due polli Ecco un deficiente proprio Che scende giù Sto stupido Ricchione Quanta vita aveva? Uno Uno Porco L'ho detto io Uno L'ho detto L'ho detto Cinque Non ci credo Oh E riguardati la clip Che ho detto uno Io pulpevo Pulpevo Ragazzi Vai vai Vinco io adesso Non ci credo Neanche io Quello che smicco Ragazzi Ragazzi Stai leggendo mi sa Ragazzi mi sa che mettiamo la qualità No è bassa è bassa Quindi Sta leggando anche qua mi sa Si Sta avendo problemi Che palle Non laggare Dai ti prego non mi laggare proprio adesso No dai lag Putrilla Non ci posso fare nulla Anzi si che ci posso fare qualcosa Riproduci E Tolgo e rimatto Michael Potresti schiacciare Ok per favore Lo continuo comunque Si Guarda Che sta laggando persino Uno di vita Madonna Siamo in sei E 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 Non vedavo niente Porco Giuda Michael Cacchio Non metterti in mezzo Che non vedavo niente C'eri tu Non ho fatto posto C'è uno di vita ancora Non me ne frega mi hai fatto ammazzare E Se ci penso ancora Non ho interesse A quel Uno di vita Non è che lì comunque l'ha fatto il camera non è lì Il mio barboncino Che tipo È di videocamera E E Hai detto che non bisognava più dire pallacce Pallacce non bestemmi Le bestemmi fanno parte Sono ancora più pericolose Mentre tra Parentesi No ragazzi Non mettetevi in quattro Dovete stare in sei Per favore In sei ragazzi Anche di più E io brutto porco Che non sei altro Oh La finisci di dire queste cose Dio A Le parole sono semplici Ok La la eh Ma io vado E tu ti metti in mezzo proprio Potevi fare solamente così Che io stavo aspettando quel tipo per ammazzarlo Ma guarda cosa fai tu In mezzo proprio Non cado in basso sto manco in piedi Sì tosto Sta andando male la connessione Porta la puttana E dopo E siamo in cinque che va male la connessione Oh padre Un cane Abbiamo la connessione di un cane No ok 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 A posto a posto Telefonico Minchia Nelefoni c'è la fibra E poi te la fibra Dai che non sto scherzando In giangue Diccappato Che cosa dici? Il mondo dell'handicapato è la sola Spero che muori Tu padre è un tuo Cianti abbassi E tua mamma si Si caccato il sol E il tuo padre sai Tu mando a carai E non sai che è solo Un negro di me Si si Il quello lì E ma Aspargo si Tu chiuditi Tu ti aprissi Se non ti aprissi Ma tu hai cagher C'è una cazza sopra C'è gente sua C'è gente sua No non Berthe Oh si Berthe Dove c'è la gente? C'è una cazza ti ho detto Non c'è gente Tre spadattori ragazzi Adesso che Michael inizia col pusher Col suo nuovo pusher Sicuramente tornerete tutti dentro Mi troverò di più anche E quindi Qualcuno deve entrare di nuovo Micae guardo Guarda amore Guarda amore Io prima le ho fotte Solo che mi stavamo in love Peccato Tutti qua li ho uccisi Tutti quei brasiliani di merda Strano che tu dici queste cose Brutto bambino ricchione Come cazzo ho fatto a beccarti? Minchè guadu Ma piglia come ho mai fatto prima Kick medico Un fortale di merda Ragazzi stiamo iniziando le skill Entrate tutti Guarda che sei tu che fallo Guarda che sei tu che fallo Guarda che sei cazzo Guarda neither Guardanora Guarda che sei tu sia Guarda che sei tu vuol Guarda che sei tu non fokле Guarda che sei tu che. Sì Sei cagato su Secondo me dovremmo aumentare gli spettatori ragazzi Che siamo troppo pochi Che culo Che era già posizionato in quella maniera Il pusher nuovo Il mio nuovo pusher Il tato Il tato male Il tato cane Il tato male Il tato malissimo Buono buono Buon nonna la puttana Basta queste parole Con i pompi nei pecchi Ehi ve Non puoi metterlo Non c'è nera qua sotto No Oddio Adesso dobbiamo Frate ma tu pipi E' su sicuramente E' su sicuramente E' su sicuramente E' su sicuramente Magari Aiuto mi sta vedendo la disietta ragazzi No La disietta Ma magari spacchino l'altro punto Potrei farlo spaccare no? E' su sicuramente Che fai pompino Che guado Si quello pipa Ma si pipa di brutto Ma pippo molto Proprio Sto spaventato Ma tanto Che sono più il lutto degli altri Che stronzo Tipo ti lutto degli altri In che guado I pompa vazzi Oh puttana come se non ti ho vinto Gioi di merda Mi sta sulle palle Che serio Doi Ti immagini da fuori Ragazzi qua c'è il pusher Vediamo quanti stiamo col pusher Solo due No il pusher ne vuole di più No ma dai Cos'è? E appunto il pusher Raga solo due E poi il pusher Il pusher sto fando e poi Eh cavolo ragazzi E poi mi impegno Ma anche L'altro E appunto si impegna il pusher Prendi l'altro Prendi l'altro Di cosa? Di fucile a cecchino Cosa c'è? Quella viola Ti prende meglio Fidati al mirino Non so che c'è il mirino Porco c'è Ma non mi piace Non si dicono le parolacce Dai Ragazzi Dobbiamo arrivare Cosa c'è? Ragazzi Saliamo Di spettatori Guarda 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 Prendi l'angio capo 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 punto per quello appunto del marmo ho visto gente il top nel fiume non sembra cosa giusta magari non andare con quello e maic ma dai il push volevamo il push solo 2 ho capito che c'è la live degli altri ma dai ma anche l'altro giorno c'è la live piero scrivi se ci sei dai ragazzi di più di più ci dai con il popolo di supporto solo 2 ragazzi solo 2 nooo li ho fatta la maastazione piga oggi e non ci avete fatto niente questo impegno per voi appunto vuole fare vittoria reale voi come fate ragazzi mi chiamava no no mi faceranno 2 no 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 siamo sfigati per 4 io chi vuole per un ragazzi anche domani a casa ragazzi sto scherzando ragazzi sto scherzando e non ci avete ma che non è guarda stavo guardando quel momento a mio figlio come si è attenzione e hai detto che mi piace che la sua casa è eve vabbè non l'ho ripreso credo perché ho messo per ordine non so che ammita non continui sì 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 ho visto dove sto vicendo tu dove si entra che ho visto allora la pista diciamo che è una pista sì ma ho visto che è proprio un perrenamento perché non ci sono buoni pochissimi sali però la paella per te poi pochissimi sali no c'è 1,2,3 che panettoni 4 5 si ho 7 ma c'era 1,2,3 3 panettoni spero spero mi fai contare mi fai contare un attimo 1,2,7 6 se se mi fai mi fai contare 6 6 6 6 6 7 11 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 10 11 10 12 12 11 13 15 13 13 13 14 14 15 15